Hanno fatto eruzione in un bar tentando di portare fuori e scassinare una macchinetta a videopoker, ma il forte trambusso ha allertato i residenti della zona che hanno avvertito le forze dell'ordine mettendo in fuga i malviventi. Chiedono con forza le tre mensilità arretrate, un progetto a lungo termine che salvi il turismo della montagna molisana e i dipendenti di Funivie Molise S.P.A. da ieri in presidio permanente. Un pubblico delle grandi occasioni ha assistito entusiasta alla decima edizione dello Scamoscio, la manifestazione di musica live che ha visto avvicendarsi sul palco tre band. Campobasso, Agnonese e Termoli hanno ripreso la preparazione in vista dell'inizio ufficiale della stagione domenica, il preliminare di Coppa Italia a Trivento tra Rosso Blu e Granata. Chi vince sfiderà il Termoli il 31. Ben trovati con l'informazione di Molise TV. Come avete sentito dai titoli, torna l'emergenza furti a Termoli. Nelle prime ore di questa mattina, intorno alle 5, alcuni malviventi hanno cercato di rubare le macchinette videopoker del bar Art Cafè di Via De Gasperi. I ladri sono stati messi in fuga però da un residente della zona che a causa del forte trambusto ha subito allertato le forze dell'ordine. Sembrava essere passata l'emergenza furti e rapini a Termoli, almeno questo è quanto era emerso nelle ultime settimane, invece il trend è stato sovvertito nelle prime ore di oggi. Erano circa le 5 del mattino quando è avvenuta l'irruzione nel bar Art Cafè di Via De Gasperi da parte di alcuni malviventi che sono entrati in azione sfruttando le prime luci dell'alba. Dopo aver fatto irruzione nel bar hanno trascinato fuori una macchinetta videopoker, ma il forte rumore è stato avvertito dai residenti del quartiere che, insospettiti, hanno allertato tempestivamente le forze dell'ordine. I militari dell'arma hanno subito cominciato la caccia ai responsabili che nel frattempo si sono dati alla fuga. I carabinieri guidati dal comandante Paolo Nichilo hanno avviato le indagini raccogliendo le prime testimonianze, mentre i militari del nucleo scientifico sono al lavoro per raccogliere le impronte digitali lasciate nell'irruzione e tutti gli indizi utili per dare un volto ai responsabili del fatto. Sono state trovate anche tracce di sangue su un'auto parcheggiata nelle vicinanze, probabilmente riconducibili ai malviventi, che non si esclude si siano anche feriti nel trascinare la macchinetta fuori dal locale. I carabinieri hanno svolto rilievi anche sull'autovettura. Non si sa al momento se ad agire siano state più persone e se sia stato portato via del denaro o altro da parte dei banditi. In mattinata poi sono partite tutte le verifiche per accertarsi che si sia trattato solo di un tentativo di furto, fortunatamente andato a vuoto e ad ora questa sembrerebbe essere esito della vicenda. Resta comunque alta l'allerta da parte dei residenti in Basso Molise e delle forze dell'ordine perché l'ondata di criminalità non sembra indenzionata a placarsi. E proprio per questo motivo in questa estate e in particolar modo nell'ultimo mese sono stati intensificati i controlli da parte degli organi preposti alla sicurezza pubblica. Ancora cronaca attimi di paura per un automobilista finito con la sua auto in una scarpata lungo la strada per Colle dell'Orso nel comune di Sessano del Molise. Miracolosamente illeso il conducente che è riuscito a portarsi autonomamente fuori dall'abitacolo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la polizia stradale e i vigili del fuoco che hanno provveduto a recuperare la vettura. Carenza di organico e mezzi obsoleti rischiano di minacciare il normale svolgimento delle attività di controllo del territorio da parte delle forze dell'ordine. A riportare l'attenzione sui problemi del comparto sicurezza il sindacato regionale di polizia. Sentiamo. Tagli, carenza di organico e mezzi si stanno ripercuotendo sul comparto sicurezza tanto da mettere a rischio la tranquillità e la sicurezza dei cittadini. A lanciare l'allarme per una situazione critica a livello nazionale ma che sta coinvolgendo anche il Molise l'organizzazione sindacale regionale della polizia di Stato. I reparti nella provincia di Campobasso sono un po' tutti sofferenti. Se ci rifacciamo a quelle che sono le piante organiche che ormai diciamo sono obsolete è chiaro che tutti i reparti hanno delle sofferenze. I reparti che poi hanno il controllo del territorio sicuramente hanno più difficoltà. Le difficoltà sono rapportate poi anche ai mezzi. I mezzi della polizia di Stato sono praticamente insufficienti per quelle che sono le attività di controllo del territorio, di vigilanza stradale. Ed è chiaro quindi che uffici come quello della polizia stradale che fa un servizio di vigilanza sul territorio 24 ore su 24 oppure quello della squadra volante della questura o di altri uffici di polizia sul territorio che assicurano la sicurezza ai cittadini è chiaro che a fronte di queste problematiche di carattere nazionale che in primo luogo riguardano un discorso di carenza di risorse si poi si vanno a ripercuotere anche su quello che è l'efficienza delle forze di polizia sul territorio. I lavoratori del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico ha poi puntualizzato PICA continuano a lavorare con uguale professionalità e impegno nonostante le difficoltà e sacrifici imposti dai tagli alle risorse per rispetto sia delle istituzioni sia di quell'innato senso dello Stato. Resta comunque fermo l'appello rivolto alle istituzioni locali alle quali si chiede maggiore attenzione. Chiedono con forza le tre mensilità retrate, un progetto a lungo termine che salvi il turismo della montagna molisana ai dipendenti di Funivia e Molise S.P.A. da ieri in presidio permanente. I dipendenti puntano il dito contro i vertici regionali che avevano fornito loro rassicurazioni sotto accusa anche la cattiva gestione di Mario Caruso. Il servizio. Tre mensilità retrate, assenza di prospettive mettono seriamente a rischio la prossima stagione invernale, questo l'allarme lanciato dai dipendenti di Funivia e Molise in presidio permanente dentro e fuori la chiesa di Campitello Matese. Nonostante le rassicurazioni fornite dai vertici regionali lo scorso mese di luglio, nulla è cambiato e se la situazione dovesse rimanere invariata, i dipendenti minacciano di fermare anche la manutenzione ordinaria degli impianti sciistici. A rischio dunque la prossima stagione con essa anche il turismo della regione. Sotto accusa anche la gestione di Mario Caruso sulla quale continuano le indagini per presunte irregolarità. L'amministratore unico di Funivia e Molise, uomo di fiducia dell'assessore Massimiliano Scarabeo, era finito sotto i riflettori per fatture irregolari, appalti da migliaia di euro in buona sostanza a una cattiva gestione di fondi pubblici. Una vicenda ancora da chiarire quella che ha portato, dopo solo tre mesi di attività, alle sue dimissioni. A sostituirlo al vertice della società che si occupa della gestione degli impianti di risalita di Campitello Matese e Capracotta, il tributarista Franco Mancini. Obiettivo principale per il nuovo amministratore era quello di garantire la massima trasparenza per ridare alla montagna molisana il peso che merita. Ma sui conti della partecipata della regione molise ci sarebbero troppe incongruenze, tanto da spingere l'avvocato Campobassano a lasciare l'incarico di amministratore unico dopo soli quattro mesi dall'insodiamento ufficiale. Una vera e propria bufera sui conti della società partecipata nel mirino degli inquirenti ci sarebbero anche appalti legati al gruppo Scarabeo. A poco serviranno ora i 200 mila euro stanziati da Palazzo Vitale in favore di sviluppo montagna con delibera 268. Per far azzerare i debiti accumulati nelle precedenti gestioni e pagare tutte le spettanze arretrate servirebbero all'incirca 2 milioni di euro. Scelta obbligata quindi le dimissioni dalla società in house della regione dell'ex numero 1 Franco Mancini. L'avvocato infatti resosi subito conto delle numerose criticità legate alla società Funivia Molise ha fatto un passo indietro non volendo indossare le vesti di liquidatore. L'ex amministratore nella relazione al bilancio della società chiuso al 31 ottobre 2013, quindi prima della malagestione Caruso, aveva riscontrato e messo nero su bianco tutte le criticità riscontrate. Ciò che spaventa maggiormente i dipendenti è la totale assenza di programmazione della prossima stagione invernale. Per questo chiedono l'immediato intervento della regione affinché la montagna molisana e il turismo annesso non muoiano sotto il peso dei debiti e dell'incertezza occupazionale. Turismo, lavori pubblici e viabilità le tematiche affrontate nella puntata speciale di Verità in onda questa sera alle ore 21. Ospiti dell'editore Federico Mandato, Roberto Rocca, dirigente generale del settore turismo al Ministero, l'assessore regionale Pierpaolo Nagni, il vice presidente della Camera di Commercio Antonietta Ricciardi e l'ingegner Enzo Marotta, titolare dell'agrivillaggio EpiFamily di Campomarino. Vediamone insieme un piccolo stralcio. A testimonianza che il posto è bello, l'abbiamo incontrato, l'abbiamo voluto invitare a tutti i costi perché in questo posto incantevole dell'EpiFamily c'è un dirigente importante a livello ministeriale, il dottor Roberto Rocca, che salutiamo, è dirigente generale del turismo del Ministero e dei beni culturali e si occupa ancora tuttora di fondi strutturali internazionali. Quindi diciamo una prima impressione su questo Molise che lei conosce bene. Il motivo al di là della bellezza del posto e della conoscenza da anni di questa stupenda struttura proprio in un punto che come diceva la dottoressa adesso non ha niente da invidiare ai Caraibi e il motivo è proprio in quello che stiamo dicendo, che state dicendo. Io ho come si ricordava un'esperienza oltre che nel campo del turismo, nel campo delle relazioni internazionali, nel campo della gestione dei fondi europei e per far questo ho la fortuna o la fortuna perché dipende da come lo si prende. Bisognerebbe chiedere a mia moglie quale delle due voce, di stare molto spesso fuori per motivi di lavoro, di viaggiare molto, di viaggiare in una serie di posti in tutto il mondo e devo dire che proprio come si diceva nel periodo estivo ritengo che è assurdo che gli italiani vadano all'estero. Nel periodo estivo chi vuole fare del mare, chi vuole fare delle vacanze di un certo tipo ha dei posti in Italia incredibili, che non solo non hanno niente da invidiare, ma sicuramente sono superiori ai posti che magari chi vuole fare del mare fuori stagione è costretto per motivi climatici a frequentare in altri periodi dell'anno, ma a luglio e agosto ci sono degli spazi. Questa spiaggia che abbiamo alle nostre spalle, queste dune, questo mare dove oggi ho fatto un bagno di circa un paio d'ore in un'acqua limpia e pulita, eccetera, ne sono un esempio proprio importante. Notizie in parte positive per gli impiegati delle poste, sottoscritto l'accordo sul premio di risultato con i vertici aziendali. Restano però i disagi derivanti dal funzionamento a intermittenza di numerosi uffici, dalla mancanza di personale e dall'inquadramento contrattuale. Servizio. Raggiunto l'accordo sul premio di risultato riferito all'anno 2014 tra le rappresentanze dei lavoratori di poste italiane e l'azienda. A renderlo noto il segretario della CISL Poste Molise, Antonio D'Alessandro. Un confronto positivo quello avuto con l'amministratore delegato dell'azienda che ha permesso di giungere a un accordo per l'intero 2014, rigettando l'ipotesi aziendale iniziale del pagamento del solo anticipo e scongiurando il rinvio del tavolo di confronto per il saldo di giugno. Confermati inoltre sia gli importi attuali e sia la struttura dell'erogazione. C'è stato questo accordo sul premio di produzione e un accordo ponte, in quanto noi non sappiamo cosa vuole il nostro nuovo management. Oramai questo nuovo management si è insediato da maggio e ancora non presenta un nuovo piano di imprese. Diciamo che stiamo fermi da marzo del 2014 in quanto il vecchio management era fermo appunto perché doveva essere sostituito. Il nuovo è arrivato, a luglio doveva presentare il piano di impresa e non ha presentato nulla. Ad oggi andiamo avanti con accordi ponte, anche questo sul premio di produzione è un accordo ponte per il 2014. Diverse le criticità attraversate dal comparto, dal funzionamento a intermittenza e ritardi nella consegna della corrispondenza per mancanza di personale. Le difficoltà sono tante, sono tante in quanto c'è carenza di personale. Noi diciamo che c'è carenza di personale perché è evidente a tutti. Anche queste chiusure fatte a macchia di leoparde, a giorni alterni, anche la consegna della corrispondenza trova notevole difficoltà. La cosa inspiegabile è che abbiamo del personale part time, che potrebbe lavorare full time, potrebbe anche provvisoriamente lavorare full time o passarli definitivamente a full time. Però non avendo un indirizzo sul piano di impresa, stiamo tutti così ad aspettare, come il contratto che è scaduto da un po' di tempo, stiamo ad aspettare. E quindi aspettiamo. Rimandata per il momento qualsiasi forma di protesta, prima ha ribadito il segretario, è fondamentale prendere visione del piano di impresa non ancora presentato dai nuovi vertici. È stato inaugurato nel comune di Sant'Elena Sannita il Museo del Profumo. Curato dalla famiglia di profumieri Muzio, il museo ospita 1052 pezzi custoditi, impregiati, mobili d'epoca. Un primo traguardo realizzato, al quale ha spiegato il presidente della fondazione, il cammino del profumo Massimo De Tollis, si aggiunge un secondo sogno, la produzione di un profumo targato Sant'Elena. L'Università del Molise ha condotto uno studio botanico e agronomico per l'individuazione e la coltivazione delle essenze floreali. Sono state individuate ben 32 piante officinali, e di queste ben 17 mai usate finora nella produzione di essenze. Bagno di folla nel tardo pomeriggio di ieri per lo storico chitarrista e fondatore dei Pudò di Battaglia, che si doveva esibire in serata al Teatro Verde insieme alla cover band ufficiale del complesso simbolo del pop italiano Palasport. L'incertezza climatica e la poca visibilità data all'evento hanno consigliato di annullare il concerto. Il biglietto venduto in prevendita sarà rimborsato a partire dai prossimi giorni. Tuttavia, per non far rimanere a mani vuote i numerosi supporter di Dodi, è stato organizzato un incontro aperto al pubblico con decine di fan che hanno così potuto scattare una foto ricordo e strappare decine di autografi all'artista, con quest'ultimo rimasto piacevolmente colpito dal calore dei fan termolesi. Restiamo a termoli, pubblico delle grandi occasioni per il ritorno dello Scamoscio, manifestazione di musica live giunta alla decima edizione. Sul palco si sono alternate tre band. Vediamo. Il meteo ci ha provato a far saltare la decima edizione dello Scamoscio, rinviata a causa pioggia il 16 sera ma andata in scena regolarmente ieri. Davvero incredibile il calore con il quale il pubblico ha accolto la performance delle tre band che si sono esibite sul palco. Infatti dopo nove edizioni e tanti anni di interruzione, l'evento musicale, tutto dedicato alla musica sky e rock, è tornato nel cartellone estivo dell'estate termolese e ha trovato grande apprezzamento da parte degli spettatori. In molti sono giunti anche da fuori regioni con alcuni pullman provenienti dal vicino Abruzzo e dalla Puglia per l'evento termolese che rappresenta il più importante del sud Italia e a cui ha preso parte anche il polivalente Olli Riva. Nonostante i problemi di pioggia di ieri che hanno veramente demoralizzato sia gli organizzatori sia noi, hanno incasinato anche proprio situazioni di organizzazione perché ci sono sempre un po' in ballo soldi e anche permessi eccetera eccetera. Rifarla il giorno dopo e vedere che funziona vuol dire grande affetto da parte della gente che è ritornata. Quindi super. Super. Sei stato tante volte qui, tu ogni volta campi formazione e continui a stupire. Questa volta, a dirti la verità, i Fire ci sono ancora, però siamo un po' fermi perché a fine settembre esce il nostro nuovo EP e sono un po' di mesi che sono in giro con i Soul Rockets a promuovere il nostro primo EP e cercare di fare nuova musica. Non potevano mancare sul palco dello Scamoscio anche i Vallanzasca, storica band Sky italiana che ha partecipato più volte all'evento nel corso degli anni. Siamo per la terza o quarta volta qui, la prima volta in assoluto sulla scalinata del folklore. Mentre eravamo stati nella piazza invece là, bellissimo, ma anche questa sera sarà una roba stupenda, come potete già vedere. Noi speriamo veramente di poter tornare di nuovo qua a Termoli, che è una delle nostre città preferite. Dunque una serata dalle grandi emozioni a Termoli con giovani e famiglie che hanno danzato e applaudito la decima edizione della manifestazione musicale, tornata a grande richiesta dopo alcuni anni di interruzione. Tanti turisti e termolesi hanno assistito alla sfilata che rievoca l'attacco dei turchi a Termoli. La manifestazione si è svolta a lungo corso nazionale nel Paese Vecchio. Circa 50 figuranti hanno vestito gli antichi abiti e hanno ridato memoria all'importantissimo evento storico che ha rappresentato un punto centrale per la storia della cittadina adriatica. Il corteo storico ha percorso le vie del centro cittadino a ritmo di tamburi e gridi di battaglia. Un viaggio arritroso alla riscoperta delle radici di Termoli fino al 1566, anno in cui l'ammiraglio turco Pialipa Shah attaccò e occupò il Paese Vecchio mettendolo a ferro e fuoco. Apriamo adesso la pagina sportiva. Campobasso, Agnonese e Termoli sono tornati al lavoro dopo la pausa di Ferragosto. Rosso, Blu e Granata si sfideranno domenica a Trivento per il preliminare di Coppa Italia. Chi passa affronterà il Termoli il 31 agosto. Campobasso, Termoli e Olimpia Agnonese sono tornate al lavoro in vista dell'inizio ufficiale della stagione, ormai sempre più imminente. Il Rosso, Blu e gli Altomolisani domenica prossima saranno di fronte a Trivento per il turno preliminare di Coppa Italia e la vincitrice affronterà proprio il Termoli il 31 agosto. In casa Campobasso Farina dovrà fare a meno degli squalificati Vitelli espulso nella finale di Firenze con il Ponsacco e Pignataro appiedato per somma di ammunizioni. L'ultimo amichevole con il sansalvo battuto per 4-0 ha restituito un lupo corto e aggressivo che non ha creato molte occasioni ma cinico e spietato in quelle che contavano per conferma chiedere al bomber Simone Miani. In tema di bomber, l'Agnonese è in ansia per le condizioni di Felice Gesuele uscito malconcio dalle ultime amichevoli e sempre più in dubbio per l'esordio in Coppa a Trivento. In generale, l'attacco Granata da Verde è stato maggiori dubbi soprattutto nel triangolare di Vasto Girardi conclusa a bocca asciutta al cospetto di padroni di casa e del cassino entrambi di categoria inferiore. Saltarini e compagni dovranno quindi far di necessità virtù a Trivento al cospetto di un campo basso carico a mille da ritorno in serie D. Infine, in casa Termoli prosegue il mercato alla ricerca di un attaccante di esperienza e di un paio di juniores di qualità magari anche da pescare in casa propria con il raduno odierno della formazione Berretti al Cannarsa. Su fronte a abbonamenti prosegue la campagna della società giallorussa con lo slogan Termoli nel cuore che prevede il versamento di 200 euro per diventare socio sostenitore 120 euro per la tribuna centrale la curva Marco Guida a 70 euro mentre per donne over 70 il costo è di 80 euro in qualsiasi settore. La speranza è di riempire il Cannarsa per spingere il Termoli verso nuovi traguardi dopo un'estate tutt'altro che tranquilla. Mirko Antenucci, l'attaccante originario di Rocca Vivara in forza alla Ternana e vicino a Leeds United per giocare in seconda divisione inglese. Oltre alla squadra del presidente Cellino la punta molissana ha ricevuto richieste anche da Bologna, Latina e FC Tokyo. Antenucci in campo ieri sera nella partita di Coppa Italia vinta 2 a 1 dalla Ternana con il Catanzaro avrebbe quindi scelto di proseguire la carriera in Inghilterra. Il Campobasso può fare un grande campionato e il giudizio di Claudio Gallicchio ex rosso-blu allenatore del San Salvo dopo l'ultima amichevole giocata proprio in Abruzzo in servizio. L'ultima vittoria in amichevole con il San Salvo ha chiuso la preparazione precampionato del Campobasso. Claudio Gallicchio, tecnico degli abruzzesi uno che conosce bene l'ambiente rosso-blu e soprattutto la Serie D ha espresso un giudizio positivo sull'undici di Farina. È stata una bella partita l'importante era veramente fare bene nel senso sotto l'aspetto della prestazione almeno la prima mezz'ora perché noi abbiamo iniziato da 13 giorni quindi siamo in piena preparazione sapremmo di affrontare una squadra oltre di cadere superiore una squadra che ha già finito il ritiro ed è già pronta per affrontare le partite che contano quindi reputo di aver fatto la mia squadra ha fatto una buona partita sapevamo che nel secondo tempo saremmo crollati. Il Campobasso ha allestito sicuramente una squadra competitiva per disputare un ottimo campionato qual è il tuo giudizio a questo proposito? Da tifoso ti parlo da tifoso del Campobasso perché comunque non mi piace giudicare sicuramente l'operato nel senso sono convinto che hanno fatto una buona squadra e quindi sono ben attrezzati non manca nulla a questa squadra penso che faranno un buon campionato di alta classifica poi ripeto in Serie D purtroppo se ne vince una sola e quindi è sempre difficile perché come il Campobasso è una squadra blasonata è una buonissima squadra ha giocatori importanti ci sono altre due o tre squadre quattro squadre che hanno giocatori importanti hanno lo stesso blasono nel Campobasso quindi lì sai quando il gioco poi diventa duro è difficile Ivan Di Mario portacolori della Polisportiva Molise ha vinto la ventitresima edizione della passeggiata nella Natura Memorial Gaetano Amoroso a Petrella Tifernina sulla distanza di circa 10 km tuttavia Di Mario non è riuscito a migliorare il record della gara dallo stesso detenuto chiudendo la prova con un tempo di poco superiore ai 32 minuti inserata nella piazza centrale del paese si è tenuta anche la festa della cucina tradizionale quest'anno a base di Sagnitelle e Ceci aglietata dalle note dei Recuch il gruppo folk locale bene con questo è tutto grazie per averci seguito vi lascio ora alle previsioni del tempo arrivederci il meteo è offerto da Burger Prince Fast Food vi aspetta nella zona industriale di Campobasso adiacente al cinema maestoso previsioni del tempo per martedì 19 agosto pressioni medio-alte continuano ad interessare le regioni meridionali rinnovando così condizioni di bel tempo prevalente temperature stabili o in lieve rialzo venti deboli settentrionali mari poco mossi Campobasso minima 16 massima 29 gradi Isernia minima 14 massima 29 gradi Termoli minima 22 massima 28 gradi il meteo è stato offerto da Burger Prince Fast Food vi aspetta nella zona industriale di Campobasso adiacente al cinema maestoso il meteo è stato offerto da a 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